eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare questo appuntamento giornaliero abbiamo visto che con la pace di ieri sera sono stati introdotti i quattro personaggi zombies all'interno di blackout sto parlando di bruno diego scarlet e show in questo video vi spiegherò come sbloccarli perché sono attivi da ieri sera vedremo come ottenere scarlet e show partiamo dalla prima quindi dalla donna che cosa bisognerà fare bisognerà trovare un oggetto che prende il nome di racing google and scarf che sarebbe una sorta di maschera e sciarpa che potremo ottenere staccheggiando uno zombies oppure il padrone della casa del cimitero quindi il mega boss gigante che abbiamo visto con il nuovo evento sempre attivato ieri sera che sfida dovremo fare dovremo uccidere un nemico con un veicolo in questo modo otterremo la skin di scarlet sembra essere molto ma molto semplice l'unica cosa è ovviamente trovarla essere un po fortunati nel trovarla negli zombies oppure uccidendo il boss nel cimitero show è leggermente più difficile perché dovremo uccidere due nemici con la bright fire o con l'ascic bomb o con la bomba acida che cosa sono sono due nuovi oggetti due nuovi equipaggiamenti arrivati ieri sera l'abbiamo visti anche in live vi faccio vedere uno screen appunto di uno dei due elementi bisognerà quindi uccidere due nemici con questi equipaggiamenti prima di farlo però dovremo trovare appunto l'oggetto di show che si chiama set alchemal l'oggetto lo troveremo uccidendo o saccheggiando il padrone del cimitero oppure all'interno delle mystery box quindi bisognerà giocare molto spesso vicino nelle zone zombies nella zona di manicomio per trovare prima le sfide di scarlet e show e poi ottenere le due sfide a seguire qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate se avete già ottenuto uno dei quattro nuovi personaggi zombies giocabili all'interno di blackout lasciate un bel mi piace per supportare il tg informativo di call of duty e noi ci vediamo ad un prossimo video